Ecco, ora andiamo nelle profondità Ed, mi ero to il cazzo che mi sbatte addosso Ed, mi ero toccato Ed, mi ero toccato Ed, mi ero toccato il cazzo che mi ha chiesto Ed, mi ero toccato 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 Ed 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 Grazie a tutti! E' che giustamente loro non sono deboli al ghiaccio, quindi non... Top! Chi è andata di lusso? Io neanche una copia in realtà ho preso dell'arma di Glenn. Sfortunatamente. Cioè nonostante tutto non ho preso neanche una copia. No aspetta, vedi c'era triangolo. Posso slegarlo qua. Ah devo tenerlo premuto. No. 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 ok Sì, non è vero. il drone è mio 200 200 20 21 21 21 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 28 Eccolo Nostra Quattro Nanaki, l'ultimo testo, cosa è arrivato qui? Posso capire? Entro! Addentare gli oggetti Dopo essersi avvicinato a un oggetto a terra Red può addentarlo con le due e tenarlo in bocca Finché mantieni premuto Prova cercando i simulacri Dei guy, dei guy Addentali e portali a Buchenhagen Perché possa esaminarli Ricordando di recuperarli Dopo eventuali combattimenti Dopo eventuali combattimenti? Ancora Aicora Icora Lecora La prima Momento L'ai Dunne D'ai Dunne Dunne Quello è solo un osso Mi ero appisolato Quindi mi sa che dobbiamo andarle a cercare Anche da altre parti Giustamente Ecco perché mi parlava di eventuali combattimenti Ah no Ah e allora devo salire da qua Vedi No E noi portiamo tutto Che ce ne frega Ecco vedi questo è giusto sicuro Ah Bossfighter Entra in tensione se colpito con attacchi magici a cui è vulnerabile o con magia di recupero Certo E a sto punto dobbiamo provare Ah no lo mando solo in tensione C'è un problema di loro. Non so se vedi che non vedi. Questo c'è un 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 c'è. Non si può prendere. Ok. Ok. Ecco perché mi diceva di recuperarlo dopo eventuali combattimenti. Oddio mi sembrano... Mi sembrano tipo le robe di Final Fantasy 12. E a me sono molto simili. Quello del grande cristallo che c'erano le porte che dovevi aprirle. C'è un c'è un c'è un c'è un c'è. Per lo stesso c'è un c'è un c'è un c'è un c'è un c'è? Grazie a tutti, Nanaki. Ah, ecco, devo metterli sugli altari, allora questo qua, e qui mi sa, allora. Sì, infatti ha il colore simile. Oh, ecco, ecco. Sì, anche, ricorda anche il tempio di Omega del 10, sì. E ora devo trovare l'ultimo. Che sarà sicuramente su quelle pareti, no. E l'ultimo, dov'è? Ah, ecco, là sotto, vedi, sì, che ci sono le pareti. Ora qua mi sa che sono pure da solo. Ecco, vedi? Ora vediamo se si risvegliano tutte le statue. Ora questa si risveglia sicuro. E giustamente mi attacca proprio mentre stavo a cagare. Ah, ecco. Ero convinto al 100% Il tuo Barret è tornato Che poi il soldato Gui Dovrebbe... Si vede poi nella Katzini che ci spiega tutto Fai l'annunza Il tuo storico è stato fatto Mi raccoglie Ma questo è stato fatto In quel tempo Qu'è stata creata la storia L'annunza che era stata fatta Qu'è stata fatta la storia Perché i quei che i tanti Alcanzia Il loro vera Una verità personale Allora, un'altra persona ha chiuso a cercare di fare un'esercizio Ok, prepariamoci Grazie a tutti. 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 Grazie. Che difficile riempire la barra... Mi devo far attaccare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bonus maestria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è un'arma lì. Vabbè quella sarà un'arma di red? Oddio. Oddio ma si è bloccato lì... Grazie a tutti. 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 queste cazzate va a finire che muoio ma non è brutta questa oi la nocacchia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto storico. Grazie a tutti. C'è una bella curetta. Eh vedi, sono messo da qua. Anche perché qua ci sono gli stronzi già pronti. Allora, un po' missio. Allora, un po' missio. Allora, un po' missio. Oh, cazzo. Devo chiamare l'ostregone. Allora, un po' missio. Un po' missio. Allora, un po' missio. Allora, un po' missio. Allora, un po' missio. Allora, un po' missio. 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 aspetta però controlliamo se qui prima c'è qualcosa ah qui c'è l'altro portale io ero convinto di essermi buttato di sotto ecco vedi ok Ok Ah, è ancora un sacerdà? Ho, ho! C'è un sacerdà! C'è un sacerdà! C'è un sacerdà! C'è un forziere! Tra loro e i cedra! Ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Il Cetra e i Gui erano amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, ecco, vediamo qui c'è boss fight. Eh, 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 non ci sarebbe la panchina altrimenti. Eh, vabbè, sì, classica proprio arena palese. Oh, la madonna. Ah, ecco. 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 Almeno l'ho presa, finalmente. Almeno l'ho presa. Almeno l'ho presa. Almeno l'ho presa. Almeno l'ho presa. Allora... 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 Onna mia! Che palle che non posso parriare, non posso fare un cazzo! è il tuo momento anche se ancora non sei potenziato una donna quanto io ho tolto si è bloccata la fase sentenza quando c'è voi non è mort Ah, 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 ah. Onmena wo i'ma da kiesu ka. Nonaki yo, ziuo ku na ta no. He he, ma ne, E ora qui arriva il guerriero Esatto il giudizio del guerriero Quello che si vedeva nel trailer Anche se quello però nel trailer parlava con tutti A meno che si riferisce in questo caso Al guerriero inteso suo padre Che potrebbe essere Eh infatti Il guerriero inteso Il corretto E ora Il guerriero inteso Sì Do you know your mother? Oh, oh, oh... Do you know? Mi ha detto... Mi ha chiesto a tutti... ...dò chiesto il caffè... ...dò... 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 ...di dò... ...dò... ...vontok että... ...ho... ...parent... ...ha... ... conductor... ...así... ...to pero... ...huren study... ...älien... ...you... ...li s**** ... ...immsey... ...dokora... ...coco e... ...zredite... ...nana... ...nana... ...o mene... ...tabili... ...tabili... ...oi... ...la... ...di... 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 ...dokono, Sasuke... ...la... ...ho mai�ante con i ...che... ...occo... ...ol locale... ...occhio! ... Sì, non è vero, non è vero. Sì, vieni a vedere il mondo! L'acqua, mi chiede. Ah, ho capito. Sì Sì Il risultato non è sufficiente Sì, vieni a fare le cose Sì 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 Perché Sì, io sono... Cosmo Canyon... Seiji Settano... ...disco da... Eh Barret Tutti così siamo Tranquillo Eccoci Gui in attack Un'altra F*** F*** Ma 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 e anche il centro di Cepra e venite Dio Ho 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 Oh, è una cosa divertente, no? Il risultato è di 2,000 euro, eh? Per me va bene, è gratis. Giustamente. Grazie per la visione!